Il punto non è il controllo. Sta giù! È una relazione basata sul rispetto. Questi animali pensano, devo mangiare, devo cacciare, devo... devi medesimarti con almeno una di queste cose. Ogni volta che abbiamo avuto una nuova attrazione, le presenze si sono moltiplicate. È incredibile! La direzione pensa che la modificazione genetica aumenti il fattore wow. Sono dinosauri, sono già wow. È progettata per essere più grande del T-Rex. Cos'è successo ai fratelli? Li ha divorati. Un esemplare fuori dal recinto! Cos'è quello? Il chip di localizzazione, se l'è strappato. Sapeva come toglierlo? Ha memorizzato l'operazione. Oddio. Si diverte a uccidere. Ci sono 20.000 persone. Non avete più barche, né abbastanza armi. Se dobbiamo farlo, si fa a modo mio. Bersaglio agganciato! Abbattiamola! Non è possibile. Stanno comunicando. Comunque parliamo di un animale. Che ha un'intelligenza superiore. A presto! Grazie a tutti.